Salve a tutti! Ci siamo quasi! Mancano circa 150 iscritti ormai all'ambitissimo traguardo dei 10.000. Essendo una meta molto importante, quello che ho in mente prevede di rendervi parte integrante dello speciale. Ho quindi bisogno che mi raccontiate un po' di voi, scrivendomi le vostre esperienze a tema fumetto più divertenti, cringe, ma perché no anche commoventi, che verranno poi lette e commentate qua sul canale nello speciale dei 10.000. Potete inviarmi le vostre storie alla mail del canale ilcanaledicurochiocciolagmail.com mettendo nell'oggetto speciale 10.000 oppure anche sulla pagina Facebook come messaggio. Ovviamente specificando prima del racconto se volete che dica il vostro nome per salutarvi in video oppure rimanere anonimi per certi racconti. Vi lascio un riassunto della modalità di partecipazione qua in descrizione e se non vi è chiaro qualcosa chiedetemelo pure qua giù nei commenti. Spero di ricevere molte storie divertenti. Arrivederci a tutti! Ciao!